come era Dario il confinato? doll io ho fatto misa sempre questa classe qui ah? ma non è possibile che curavo io? forse era Andrea che curava si ero io era Andrea vedi ah beh possiamo guardare le vecchie lime no metto armi speciali io dai no armi speciali abbiamo coso? metto ufficiale certo guardate mi sembri invogliato a curare no? ma se volete cura io ah? ma scusa Marco ma se tu sei il medico ti ti curarei tu? ma non voglio usare il medico quello è il punto lasciami col cazzo di medico e lo faccio io braaaaavo Dario braaaaavo braaaaavo ahah Andrea non gioca no Andrea non può giocare qua se non in quattro si gioca ma che p***a questa signora è la stagione 2 possiamo partire? era questo qui il mio personaggio mi pare ma stai facendo? statevi capire si siamo in live va dai te l'ho detto Davide e queste live non l'avei letto stagione 2 ma ditemi quando posso partire la mototeca e questo il video dovrebbe prendere quello con le armi pesanti e due emisioni io ho preso l'ufficiale vedi eh io non so se sono le buone armi questa è qui che ho preso una mototeca la mototeca ma tu sei un pazzo furioso che c***o dovrei prendere? allora mi sono preso lui va bene il kit medico ok? ok il kit medico non ti serve? allora che li metto? cosa ci manca il saldatore? la torretta ce l'abbiamo già come second arma mettere le munizioni e poi il saldatore effettivamente credo che sia meglio che il che il negro si mette il la torretta perchè mi pare che ha dei bonus quando la mette bonus velocità di notte però lui è l'unico che può mettere le munizioni non avremo munizioni non avremo munizioni non avremo munizioni non avremo munizioni sei livello 1 perciò c'è poco da fare vabbè però grazie mi mi fai le munizioni aspetta vediamo se posso metterle io eh io non so che cosa secondaria mettere ragazzi metti il saldatore tu e sei bravissimo che cos'è il saldatore minchione? che cos'è il saldatore? è il secondo oggetto solo per chiudere le porte ok perfetto vabbè possiamo partire? per me si anche se ti ho io metto sono proprio una contraddizione ma io non ricordo neanche i tassi quindi li proviamo proviamo dai solo una questa è una prova una prova super regale no ho messo c'è scritto c'è scritto difficoltà avanzato Dario attenzione al fuocavito vedi che il fuocavito è molto alto come si giocava? ricordatemi ok che cazzo fa? intanto guardate ma posso mettere una torretta con le porco oh che succede? che hai fatto? come si leva l'arma? come faccio io? no allora abbiamo cominciato che inizio ho fatto i danni è finita ecco facciamo un grosso bene vabbè poi c'è più brutto c'è solo tutto si tutto è gonf che bella che inizio di qua di qua e poi di qua per disegno colpo del sole ecco qua a posto non diamo avanti che finisce io non ho parole ragazzi non ho parole davvero non è figa questa cosa c'è tipo poi a fine partita possiamo commentare tipo hai una strategia con cose troppo ma io no aspetti io ah ecco aspetta si vai tranquillo vedete che non dobbiamo colpirci perchè si muore facile ve lo ripeto vabbè ma a me non io non so come sono morto non ho visto ne è morto io ne è morto io mi sento l'ucciso io ho provato a curare e abbiamo fallito l'ha provato a curare si se muoio io ne abbiamo la missione ho uscito l'arma sbagliata ho uscito il mio cazzo e ne è morto ma ragazzi ma se siete il mio volo che hai il medico non potete curarlo voi no il medico è personale ah c'è la pistola medica ok scherzavo no la pistola medica crisi scola ok quindi voi siete pronti ho visto ok scusate ok ora vi sparano tutti no no non sparare state attenti a come sparare no va bene ok andiamo andiamo ci siate rispetto vai 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 occhio al lanciagranate pulsanti in alto del mouse o rotella mi pare ah figo 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 che cazzo fa? ok come ti usa la parola? io sono un tecnico vada è caluto ma non sono più un tecnico effettivamente il pulsante della saldatrice che è uno che è uno si si aspettate ragazzi dobbiamo andare alla stessa strada ma che cazzo puttato? ah le bombe no saldando ok daremi un secondo tanto non ci sono le ondate ah non ci sono le ondate no ma porca troia sbaglio puzza piano 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 attenzione a non spararci dopo le mettere le ondate onestamente bene basta me lo dite donna eh sparate viva se sono dietro io dietro io addio piano 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 la porta la porta la porta ai ti ho curato? eh aiutatemi c'è un cazzo di co ma porco di cazzo sto ricaricando curate curate Marco dagli due punti casomai se è solo uno dagli due punti saldo dietro? ho dici io ma si deve ricaricare? si con la N come ricarichi normalmente come si ricarichi fuori praticamente ragazzi ma mi dovete curare qua c'è un altro ah c'è seduti a posto c'è la porta saldata vai Dario no aspetta non voglio quella cosa c'è un saldatore prendetelo poi ma io giocavo controller mi sa se mi sa pure a me dovrei scambiare il mezzi kit per mettere quello attenzione attenzione oddio sentissimo quanto mi ho tolto dietro mi ha assalato ragazzi io sparo davanti vai 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 cazzo le pare di testo bianca fa il culo ma se pure dove sei guardia 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 yogh dai 2 pugni se uno attento non mi sparare non mi sparare davide curati davide mi voglio curare ma non è così semplice vennuno 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 i colpi o cosa? o cosa? non munizioni infatti come faccio? pugni? forza droga pugni io non ho vita il problema è questo e a pugni può avvenire aiuto madonna ma i pugni sono fortissimi sono morto i pugni delle mani ma sono io quello per scarso vabbè mai senza munizioni vai tutto a pugni tutto a pugni ma io avevo le munizioni ah non ce l'avevo io effettivamente madonna quanto ti sono facendo male non dovete mandare di qua aiutami davide aiutalo ti prego ma sei rimasto in vita veramente? ma come? non vedo niente qui porca miseria va bene avvia la missione senza davide vai 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 se mi colpisci nuovo se lo muro a me è presente davide mi ha ucciso prima ahahah mi ha sparato tre parti di munizioni di tracchi di munizioni ahahah mi ha fatto un traiettile muare c'è un problema perchè pure davide vedi lo scherziamo ma che sta succedendo non lo so metti la torretta stiamo per partire mi devi proteggere e non ho col cure non ho niente sto morendo non ha neanche come sparare non avete la polizione non la polizia non so che dobbiamo fare come funzionava? non so io ah ok mi ricordo dai fili di allineare vivo mamma mia è finita madre no ma che problema ha questo gioco e niente è su playstation ma non mi situazione ha più la madre e niente è finita andrei a piedi ci servono le punizioni ok per forza non ce la facciamo se mi serve pure un'ida che non vi ammazzi no ma si poteva anche fare allora ragazzi secondo me qua è stato il problema esattamente qui si ok tu tutto il problema è stato qua appena andai venuto siamo morti no vabbè ho capito aspetta so io cosa cosa fare perchè sennò è veramente troppo al color aspetta metto il fuoco amica normale fuoco amica normale metto io prendo una motoseg abbiamo due torrette io cambio armi dai ci lo siamo giocati poi si infatti allora ragazzi io ma li mettiamo le ondate si o no? ok dimmi come si mettono ma ci giocavamo con le ondate prima ma ci giocavamo con le ondate prima one hit life mode ma io ho fatto tutto quanto ad avanzato con le ondate ma SB difficoltà a year one dove si mettono queste ondate scusami ma le vuole che cacca a Dario andiamo va bene posso proporre una cosa? no si mi dica ma è diverso questo qua è diverso Davide ci sono le missioni da fare proprio e poi loro non ce l'hanno left ma scusate gratis si anni fa anni fa molti anni fa ma perchè non cambia l'arma con una e due? perchè non siamo su Abax ho buttato un potenziamento delle armi perfetto ma con la rodella che succede? non lo fare si cambia l'arma con la rodella sui giù temevo che sparasse una granata ahahah 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 ma dovrei cercare di non spiegare le munizioni o no? si e neanche di... vabbè a pugni alcune volte si come si... la porta ragazzi la porta ah c'è anche questa qui do un consiglio non ricaricate se non avete finito i colpi perchè svaniscono ah ok ragazzi voi siete ancora indietro? si ah ma vabbè in quella porta ma stai per questa qui e l'ho saldato ah ok ma vabbè alla misteria come eri giù davanti beh giù giù ho sbagliato oddio come bene bene molto bene ma che fai davide? do io ho due secondi passare pure passare tutti così così la risaldo io proteggo lì qua eh sì è un po' troppo sprint no ma io solo con una moto 6 ho sbagliato nella ricarica maledizione oh ehi eh 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 ok signori eh se posso oh ti do la mano grazie aiuto aiuto vai ok mi puoi curare? non c'è niente qua ragazzi no ok perfetto dai va bene così grazie andiamo andiamo che qui ci sono munizioni ragazzi qua ci sono munizioni vabbè ma ormai siamo alla fine non credo ci servono no mi servono mi servono mi servono stando per sfondare? ci penso io dove sono le munizioni? faccio una? vabbè una torretta poi faccio una ah no è una torretta infatti prendila vabbè andiamocene no mi sa che ormai è piazzata si è piazzata ho bisogno di pure no si può togliere ma la può togliere lui provata torretta quindi premuto per malta ok ai ai ho sbagliato grazie 80 euro devi dirgli perfetto ci siamo ok le mie bombe la devo mettere la torretta la torretta che la metterebbe ho messo la torretta qui sopra o sotto? io parto vai parti 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 no mi muove troppo no mi muove troppo nooo no no abbiamo vinto lo mio no no si non è da difficile senza le ondate aspetta sento i miei freddo che fermi sicuro ahahah wow ahahahahah ahahahahah la torretta è in giro ma l'ha fatto un cazzo di danno ovviamente ma che mi merda Dario ma sei fortissimo eh vaffan cura mettiti tu a curare e se magari togli la motosega fai qualcosa no perchè se no fai diventato con il mirro e li ammazzo involontariamente capito? abbiamo il fuoco amico normale adesso va bene bravissimi ragazzi colpo del sole no continua bravissimi vuole l'ho lanzuato posso mettere la difficoltà se vuoi? no la difficoltà no ok le ondate sono ma io chiedo come si mettono queste ondate? dimmi come si fanno eh chi si ricorda? assalto abilitato assalto assalto va bene vai ha cambiato mappa giusto? mh ok allora possiamo se non riusciamo le togliamo si infatti Dario con la motosega è già morto ma se vuoi potremmo partire direttamente dalle missioni nuove comunque quella della che noi abbiamo finito tutte quante ma Dario non ha nulla allora facciamoci un po' facciamoci un po' i denti a Dario a Davide Dario troppo iniziali tutti con la con la diamond mi piace mi ricordo questa macchina che ne pensaresti se io ti chiamassi? non lo so Giorgiardi va bene Giorgio Agni oh 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 ragazzi 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 proteggetemi va bene non mi c'era la motosega ma porco il cazzo ragazzi abbiamo perso ma ve lo dico ma quando mai c'è Marco è morto sì però tu sei morto pure però io sono vivo mi ricordo mi ricordo che abbiamo perso le cure per lui no Marco no ma non ti ha colpito vero? le esplosioni sì ah cazzo ma tu sei un pazzo oh Cristo mi hai ucciso qui ci credo vabbè dai ti ho ucciso con Gloria meglio io che loro io cerco di salvarti addirittura ti ho ucciso oh 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 io sparavo avanti tu spari dietro ahahahah che la posso fare? ce la posso fare? dammo un po' di lavoro di simbolo non avevo munizioni abbiamo finito le munizioni subito abbiamo finito e niente Dario è molto qua non è durato un cazzo non è durato un cazzo ma che cazzo no vabbè comunque una motosega di cioè c'è una motosega di merda bellissimo inizia la partita può morto pura poesia questo gioco e noi lo facciamo così ma io sono un cazzo di mimica come la nostra sto schifo eh voi vogliamo cambiare? eh no signor ok ho messo una cassetta munizioni così siamo fermi tutti e qua non sto facendo niente parco il cazzo allora ho messo la cassetta munizioni così siamo felici vabbè dai vabbè vabbè fati vabbè vabbè vi dall'alte vabbè vabbè ho guardato dietro ho guardato dietro Sì ma vuoi guardare avanti se io guardo dietro? Ma che cazzo Marco? Dom non facciamo la stessa porta Sono morto, sono morto Cazzo io sto proteggendo egregiamente dietro Se voi andate avanti in tre No ci siamo mostri nella stessa linea proprio Mi ha sparato tutti i colpi Cazzo ma cavolo Schyee ma siete capaci dai Il tempo è tempo Vai in quanto io ho fuck Fuori io Ma come siete morti, io ce la robbi lì sopra Vurre io Muoni Voi E' durato un cazzo Guardami dietro, guardami dietro Guardami dietro, non ammazzare me Era meglio Ma mi pare che la usavamo da motosega con un tricorpser Si Io non ho parole Cioè io non ho vinto è quello che ammazza così Mi sento offeso E' una bella partita Marco guarda lì, che andiamo su, 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 su E' morti Dai Davide, ma questa qua è dura da poco Non vale, in ultimo Dai Davide, dai Io ancora c'ho i punteggi di Io c'ho ancora i punteggi di cose, di cristiani Vabbè ha ragione, dai, l'ultima Vabbè però va Vabbè comunque prima o lì allora l'abbiamo fatto Dai Bello bello donnaio su sto gioco Bye bye Sono un piacere signor negro Anche per me Ma perché queste parole, mi dissocio da quello che dice Davide Buonanotte, buongiorno Ma lui è necro Allora, tu fai a me, Andrea I don't know.